A tutti i folli, i solitari, i ribelli, quelli che non si adattano, quelli che non ci stanno, quelli che sembrano sempre fuori luogo, quelli che vedono le cose in modo differente, quelli che non si adattano alle regole e non hanno rispetto per lo status quo. Potete essere d'accordo con loro o non essere d'accordo, li potete glorificare o diffamare, l'unica cosa che non potete fare è ignorarli. Perché cambiano le cose, spingono la razza umana in avanti e mentre qualcuno li considera dei folli, noi li consideriamo dei geni. Perché le persone che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo, sono coloro che lo cambiano davvero.